Musica Buongiorno a tutti e benvenuti a vederati sul mio canale Io sono EmberTheGamer e oggi siamo in compagnia del GIGA Si però stai calmo, si però stai calmo L'aspetto che mi è sembrato, ecco appunto, di vedere con la coda dell'occhio un intruso Ciao, intruso, ciao, facciamo che non lo fai più di entrare nella nostra base, grazie Allora, per quanto mi farebbe tanto, tanto immensamente piacere andare in giro con Ups, aspetta che siamo sprofondati nella sella del GIGA, ok Dicevo, per quanto mi piacerebbe andare in giro con il GIGA, lo vedo un po' ingombrante E se ben ricordate, aia, scusa Ginetto Anzi, come mi avete anche ricordato nei commenti, noi abbiamo una casa su un Quezza L'ha abbandonata laggiù in fondo, quindi sarebbe il caso di andarla a recuperare E sì, continuo a dire che dovremmo sistemare un po' meglio le bestie C'è una mucchiata incredibile qua Lo faremo, ragazzi non vi preoccupate, giuro che lo faremo Croce sul cuore proprio Allora, noi ci siamo preparati tutto il necessario Un bel po' di roba, tanto ce l'abbiamo anche sulla base sul Quezza Quindi non è che ci servano grandi rifornimenti da trasportare Ma adesso appunto andiamo a recuperarci il Quezza E dopodiché vorrei andare a prendere il Rex Tech Sì, tanto per continuare la collezione E poi perché qualcuno mi ha chiesto anche di prenderli E quindi ho deciso di andare a prenderli E mentre siamo in viaggio per andare a recuperare il bestione Vorrei salutare i nostri iscritti AndreGame05TV DaniletteSuper TheMaryland E di nuovo Stregatto Stratto Sempre l'autore della nostra copertina Tesoro, te l'avrei detto che ti avrei salutato in tutti i video Un bacione a tutti ragazzi Ancora grazie mille per il supporto E per tutti i consigli che mi date nei commenti Allora, io ricordo di averlo parcheggiato qua sul Quezzal Giusto? Mi sa che... No, aspetta Allora, io l'avevo parcheggiato sopra una cascata Poi... Però l'avevo spostato Mi ricordo di averlo spostato qua Forse non l'ho... Sì, sì, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì E forse l'ho tagliato nel video Ho tagliato il pezzo durante il montaggio video Però sì, l'avevo spostato un po' più vicino Mentre ancora cercavamo il Giga in questa zona Dopo aver fatto il respawn di tutte le bestie Ciao piccolo, aspetta Aspetta, aspetta Devo riuscire ad atterrare No, 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 no Ci siamo? Sì, sì Sì Aspetta, aspetta Non proprio dove c'è la scala Cripto Grazie Perfetto Ah, aspetta Dammi un po' di roba Eheh, la pepina Quanta roba che c'hai Ah, ma forse Ma mettere due ringhierine No, Ginetto Ce lo ricordiamo per cortesia Che a me sale il panico Oh mio Dio, quanto siamo in alto Cripto Ah, oddio C'è Crypto compenetrato malissimo col tetto Tesoro non cadere Ok, ci siamo portati anche un po' di tutine Che non si sa mai In base a dove andiamo Potrebbe servirci Un abbigliamento differente Aspettate che do un po' di pappa Al Quezal Che è stato così bravo I pazienti Che ansia Ah, ok Ad aspettarci Quassù Tieni ciccio Mangia Mangia tutto Te lo meriti Però che spettacolo L'ha vista dal Quezal Che spettacolo Mi piace veramente tantissimo Questa nuova base Che ci siamo fatti Cosa, fa vedere dal terrazzino qui Eeeh, vabbè la figata E vabbè la figata Si vede tutto Ma è bellissimo Allora, diciamo al Quezal Senza cadere di sotto Di seguirci Come sempre Stai buono? Stai buono? Siamo qui Non ti preoccupare Non ti allarmare subito Per cortesia Stai fermo Non ti muovere Per l'amor del cielo Non ti muovere Che mi fai cadere Crypto Stai fermo Oh, dannazione Ma Crypto tutto bene Si, ancora lì sopra Ma dimmi te Che non mi posso far seguire Dal Quezal Perché sclera Questo appena rientro in casa Guarda Crypto Poverino Stava per cadere Ma Quezal Quelle due cacche Per aria Sono due No, forse sono Di Cristo E' bellissima Questa cosa Che le cacche Rimangono Sospese per aria Guarda lì Il Quezalfiero In teoria dovremmo poterli trovare Anche qua Ma mi sono già spulciata Molto la zona E mi è sembrato di vedere Un tex rec Ma era un rex tech Un tex rec Vabbè L'italiano L'italiano non è un'opinione Un rex tech Ma era di livello basso Se non ricordo male Quindi direi di andare In altre lande E sperare di trovare di meglio Ah ma quella è una zona innevata Allora ci dovremmo cambiare Ah no vabbè Perché ci abbiamo la lontra Ci abbiamo la lontra Quindi in teoria Non dovremmo soffrire il freddo Però ci perdiamo puntualmente La casetta E beh mi sembra corretto Ma mi sono mossa Di mezzo metro eh Cioè voglio dire Non abbiamo fatto Tutta questa strada Quezzal Da dire Noi non riesco a seguirti Ce la facciamo Sì Perfetto Bravo Piccolo Bravo Ora un po' più veloce Un po' più veloce Grazie Ma che bella Che è in questa zona Anche con tutti gli isolotti volanti Ma è troppo carina È un po' un casino Probabilmente fare una base qua sopra Cioè ci puoi andare solamente Con vesti e volanti Quindi difficilmente Ti ci porti altro Però è bellissima Dai Poi ti fai una base Su un isolotto Di quelli un po' più piccolini Che ti viene a rompere l'anima Nessuno Nessuno Cici ce la facciamo E dai Ah cavolicchio Mi sono dimenticata Zena Nella base nel deserto Volevo prenderla Per catturare il rex Vabbè dai dai L'abbiamo già Sfiancata moltissimo Quel povero griffone Per prendere il Il giga Quindi dai A sto giro Lo lasciamo in pace Lo lasciamo in pace E cerchiamo di arrangiarci In altro modo Ma no Mi volevo portare dietro Anche il tilacone Oh io Ma siamo un po' Vabbè 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 Ci prendiamo i rex tech E poi mi sa Che lascio qua Il povero Quetzal Tanto ormai è abituato A essere abbandonato In giro per la mappa E poi mi sa Che torno con Crypto A prendere due creaturine Che mi voglio portare Nelle sfere poche Sul Quetzal Che non si sa mai L'occorrenza Possono essere utili Sai Per non dover Come al solito Tornare ogni volta Alla base E farsi il giro Di tutta la mappa Che richiede Quelle due tre ore E Ginetto Non ci sta crepando Di freddo Grazie Piccola Londra Come si sta facendo Tutto buio oscuro Oddio Vedo fulmini e saette Laggiù Ma che succede? Perché è tutto così buio? È un po' inquietante Oh mio dio Che succede? Eeeh Fulmini e saette Lampi No vabbè No vabbè Aspetta 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 Fammi parcheggiare Il Quetzal in alto Di quello Beccan fulmine Ci facciamo Quetzal arrosto Non è il caso Grazie Vieni Quetzal Ti lasciamo Su questo cucuzzolo Qua in cima Così abbiamo Un riferimento Ce la fai Lilo? Ma guarda Come si è fatto Tutto buio e scuro Ma che brutta montagna Che è questa? Mi devo andare A informare Su come si chiama Tipo Landa infernale Una cosa del genere La montagna del diavolo Ecco il nostro Quetzal Perfetto Cici Aspetta Ci stiamo Ci stiamo compenetrando Molto male No 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 Quetzal hai fatto un casino Eh sì È molto carina Questa scena Però io Come mi schiodo Da qua Non riesco A far muovere Cripto Ci siamo inchiodati Là Abbiamo formato Una nuova creatura Mezzo Quetzal Mezzo Viverna Muah No davvero Scherzi a parte Ce ne possiamo andare Da qui No ma non ci credo Ma perché ci incastriamo Sempre con i Aspetta Mi manca uno scarabeo No Quetzal Ti sei perso Lo scarabeo Per strada Ma davvero Ma no No Ci siamo persi Uno scarabeo Che tristitudine Chissà dove è finita Povera creatura Aspetta Ok ok Sono riuscita a salire Sul Quetzal E forse ce l'abbiamo fatta Forse Stai lì Cripto Lì buono Aspetta che ora Mi cerco di posizionare Il Quetzal sotto Cripto No 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 Non mi devi seguire Tesoro Tesoro Non mi devi Va bene Ok Mi va bene Mi va bene lo stesso Sì però In tutto ciò Io ho perso Uno scarabeo Ma da dove Ma perché è uscito Ma come ha fatto A parte che ste piante Mi sa che stanno Un po' morendo Vero Sì Forse è il caso Di ridare di acqua Tipo così Sì Ma dimmi Che ci siamo persi Il piccolo Scarabeo Me l'avete detto Che c'era questo rischio E io ben lo sapevo Però speravo Che non succedesse Oh che tristitudine Vabbè Poi magari Fuori registrazione Faccio un giro E vedo se riesco A recuperarlo Chissà dove è finita Quella creaturina Va bene Quetzal tu Ora statene qui E noi andiamo Non sono più tanto Convinta Però sì In teoria Andiamo in queste Lande Ghiacciate A cercare Il rex tech Ma come mi rode Che ci siamo persi Lo scarabeo Ma mi rode Veramente tanto Aspetta Vedo bestie Sono rex Ma non sono tech Ah che buiume Oh che bella Coppietta di rex Mi fate vedere un attimo Il livello Ragazzi Giusto per curiosità Un livello 13 No E un livello 21 Ma anche no ragazzi Cosa ridi Cosa ruggite Cosa ruggite Cosa Cosa Vi facciamo fuori Con uno scuto Anche a voi Non rompete l'anima Bene Vedo che anche questa zona Come la maggior parte Delle zone di arte È incredibilmente Accogliente Che carini Comitato di benvenuto Sempre molto accogliente Ah si sentono anche Rumori strani E inquietanti Eh vedi Qua non sarebbe stato male Venire col tilacoleo Eh ma quanti rex Che ci sono Ma è pieno Nei mila Un centoventisette Ah però Ah però No 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 Peta 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 cripto Peta peta Un centoventisette Eh quasi quasi Scusami Un centoventisette Peta peta C'è una coda Che spunta da Cos'è sta sfera Scusa No no rex Non rompere l'anima No Allora aspetta Lo so cosa sono queste sfere Le ho già viste Queste sfere fluttuanti Mi devo informare meglio Non me lo ricordo Ma guardale Ma sono ovunque Mi dice posso entrare quindi Non mi ricordo Mi sembra di sì Ci posso Sì Siamo dentro La sfera E una volta Che siamo qui dentro Che succede Niente Ah ma fluttuano Si muovono No Forse è un'illusione ottica Mi devo Mi devo andare Informare su che cosa sono Non me lo ricordo Forse me lo avevate Anche già detto voi Riditemelo per favore Che io non me lo ricordo E guarda i fulmini Lampi e le saete Ma ci possono colpire Uh senti che suoni È bellissimo È bellissimo e inquietantissimo Al tempo stesso Sì comunque questa mi sembra Proprio zona da Rex tech In effetti Nonostante non abbiamo ancora visto Manco uno Mi sembra La zona adatta A creature del genere E vabbè Quanti carno Quattro Tutti insieme Ma siete una famigliola Ma che carini Là c'è un altro Rex Che lotta Con altri due carni E là c'è un altro Là dietro E vabbè La sagra del carno Guarda altri due Ce l'è un altro qui Un altro qui Un altro qui E vabbè E vabbè Ma sono un'infinità Di carno Aspetta 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 Voglio entrare Dentro questa sfera Ah No Cosa No no Non mi piace Stavo scherzando Non voglio entrare Non voglio entrare Non voglio entrare Stavo scherzando Cripto Cripto Mi stanno Mi stanno picchiando male Potresti venire a dare una manina Una manina veloce Aiuto Non ci capisco Non ci capisco Mi stanno facendo solo tanto male Capisco solo questo Aspetta Beverone Beverone Ok Ok Mamma mia Che tramo Ok Non ci entro più Lì dentro Non ci entro più Cripto Potresti venire qua Tipo Sì grazie A terra casino Vicino ai carno Ovviamente Grazie Non è male che sia distratto Con l'aquila Ah un altro carno lì Ma guarda quanti Ma è pienissimo Cripto Fammi salire a bordo Che brutta zona Maledetti Maledetti Bestiace schifose Maledetti Bestiace schifose Guarda quanti E vabbè E vabbè Mamma mia Che casino Non ci entro più In queste sfere Finché non capisco Che cosa suona Non ci entro più Ma io pensavo Ci potesse entrare Anche Cripto Invece lui Non ci può entrare Ma porco cribio Ah porco cripto La smetto Guarda qui Queste pietre azzurre Petta 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 Cripto 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 Quando ti dico atterra Puoi atterrare Nel punto in cui Ti dico di atterrare Invece di farti I tuoi giretti Guarda ci sono Le pietre azzurre Ma che carine Sì ma ora Non scendo A raccogliere niente Perché qua è pieno Di roba Che vuole uccidermi Ma è pieno ovunque Di ste sfere Guarda qui Questi cristalli Ma che figata E sono questi Che fanno Fulmini Saette Ah mi stanno facendo male Mi stanno facendo male Aspetta scusate me ne vado Cioè mi sembra Mi stiano facendo male È comparsa un iconcino Ma non l'ho vista bene Era tipo un occhio Tipo mi ha preso Un fulmine nell'occhio Povero ginetto Vediamo se sto coso Ci dà qualcosa di interessante No Oddio Ma sai Un altro cannocchiale Oh paracaduti Sì sì Paracaduti Vai 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 Che non ce l'abbiamo In effetti Siamo così vabbè Che non ce lo siamo preparati Aspetta che me lo metto Al posto delle bolla Che tanto per ora Le bolla non mi servono Oh grazie Regalino molto apprezzato Sì ma perché le saette Beccano solo me Non beccano le altre creature Perché io vedo i carno Che ci girano intorno E non succede niente Guarda qui Ma questo sono È un purlovia Due purlovia Aspetta Cosa Cosa Che vuoi Che vuoi tu Chi sei Cosa Ma oh Ma non ti ho fatto niente Ma che cribio vuoi Cos'è sta roba qua Dov'è Quella roba volante Semischeletrica Cioè Volevo vedere chi purlovia io Posso Allora dicevo Un purlovia 127 Ma ci sono tutte Creaturine di livello Altino qui E tu invece mi sei Un maschio 30 Aberrante Ho letto bene Ma non mi sembri Aberrante Scusami Con tutto rispetto Non sembri Una bestia aberrante Però va bene Mi fido Ma dai ci sono le creaturine Ce l'hai con me No Non ce l'hai con cripto Vero No non osa Non osa Ok Ok E' sparito il purlovia Ma era qua un attimo fa Ogni tanto le creature Spariscono Ah mi sa che qua ci sono Un po' di creature Tipo di Di aberration Ah sei tu lo schifo Che mi stavo attaccando prima Uh Uh come è partito Come si chiama un cercatore Ah è un cercatore Quello Ah Mi sa che non è Addomesticabile Quella bestia brutta No mi sa proprio di no Va bene Tanto non ci tenevo Da domesticarla Oh aspetta Ci sono le creature Di aberration Aia Ma con me ce l'avete tutti Ma perché ce l'avete tutti Con me Ma non vi ho fatto niente Ma ci sono le creature Di aberration A parte le creature Aberranti Ho visto anche le Le luccioline E Come si chiama Il piccione Piccolo piccione volante Spino Hai rotto un po' l'anima eh Allora Carno come se non ci fosse un domani Ma io a rextech Ancora non ne vedo Non ho voglia di fare Un altro rispondino Mmm Ci incastriamo tra gli alberi No Qua era meglio venire con il Con il tilacoleo Secondo me Sarebbe stato più carino Girare in queste zone Col tilacoleo Sarebbe stato anche più Pericoloso probabilmente Sì ti do cibo Sì ti do cibo Ginetto Ci fammi una chi In realtà lo sai Ah aspetta Luci Luci che mi accecano Così quasi mi vado a prendere Un piccolo snack Mentre facciamo questa ricerca No vabbè dai Resisto ancora un pochino Qua c'è la desolazione Totale Zero creature Non c'è proprio una mazza Ginetto forse forse Ce la dovevamo studiare meglio Cioè dovevamo un attimo Informarci sulla zona E che non pensavo fosse così Sta zona Non ci ho proprio pensato Minimamente E quindi non ci siamo informati Siamo venuti qua Un po' impreparati Aspetta che ci sono troppi alberi Niente allora Facciamo una bella cosa Tu seguimi Lillo E andiamo da un'altra parte A cercare il rextech Perché io qua non ho trovato Manco mezzo Lillo mi segui Allora mi sembra di aver visto Online che in teoria I rextech potrebbero essere Anche in quest'area Quindi adesso ne proveremo A cercarli qui Lasciamo il quesal Qui Ti fermi Lillo Lillo ti fermi? Grazie È abbastanza in alto Sì non mi sembra Ci siano aquile qua Che possano venire A rompergli l'anima Stai lì Cici Io mi ricordo Dove l'ho parcheggiato Sì sì Dai dai Quando iniziano Gli alberi rosa Praticamente Ok dai 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 Me lo ricordo Spero Spero Se non sbaglio Noi qua ci avevamo mollato Anche un mammut Da qualche parte Mi sembra di ricordare Sì ce l'ho anche segnato Sulla mappa Che avevamo lasciato Un mammut Ma mi sa che Che il mammut Non c'è più Secondo me Se l'ha mangiato qualcuno Ah qui ci sono i soliti Allosauri Incastrati tra loro Ma guarda che deficiente Aia Aia Però dai Io sono preso un po' in giro Come siamo Permalosi Va bene Allora se rompi l'anima Se rompi l'anima Eh Io non volevo Oh scusa Ho beccato anche un piccolo parasauro Perdonami parasauro Tec Che bellino Se mi ricordassi Di che senso è quello che abbiamo a casa Se è maschio o femmina Sarebbe tutto molto più semplice E ne prenderemo uno Ciao Il vostro fratellino Mi ha rotto le scatole Quindi scusate Ma ora ci passerete Pure voi Dove fuggi Dove fuggi Bruta merdina Eh Fare barrosetti Quando eravate in tre Uh Un livello 114 Era la peppina Sì Ce li saremmo anche potuti prendere Ma si sono comportati Molto male Con noi Quindi non meritavano Nessuna pietà Oh Guarda un po' Chi c'è laggiù Ma guarda un po' Chi c'è laggiù Un rex tech Ma di livello 15 Eh ma uffa però Non lo so In effetti non ho trovato altri Vabbè tu resta qua Su questo anfranto di terra Ciccio Che eventualmente noi torniamo Fammi fare ancora un giretto Dai vediamo se troviamo qualcosa di meglio Cioè proprio No il rex 15 Cioè per carità Non è che fa proprio schifo Quindi più o meno Però Non importa No Preferisco cercare qualcosa di meglio No ma No mammut Ti abbiamo ritrovato Ma ciao Ecco dove eri finito Non sei morto allora Io ti devo per morto Lillo Ma stai bene Ehi sembra stare bene Uh guarda Ci si è alzato anche il livello Che bravino Ciao cucciolo Contento che siamo tornati Eh una cifra Vieni ciccio Non ti lasciamo più Te lo prometto Ti portiamo via con noi Se riesco a far funzionare la sfera poche Perché non funziona Sfera poche Sfera poche Obedisci Ma Ah ok Ce la facciamo Alleluia Ecco ho fatto Vieni con noi Non ti lasceremo mai più Te lo prometto Te lo prometto Ok Allora dicevamo Rex tech Per cortesia Fatevi avanti Wow Guarda chi abbiamo trovato qui C'è Uh guarda com'è incacchiatissimo Guarda com'è incacchiatissimo È un rex tech Bene sì Aspetta No ci sono gli alberi di mezzo 150 Ah Un maschio tech 150 Bene No vabbè Ma è moltissimo 150 Ok va bene E cripto ha finito la stamina Dannazione a me Alla stamina Che me la dimentico Ci sono anche un po' di aquilotti Laggiù magari vediamo di farli fuori Così non rompono l'anima Mentre Proviamo a prenderci il bestione Che tra l'altro ora non vedo più La cosa mi inquieta Allora aspetta Lui magari si può distrarre con le aquile Uh forse siamo anche in un buon punto Cripto mi atterri per cortesia Grazie Oh potremmo essere in un ottimo punto Fammi vedere Fammi vedere Sì direi che siamo in un buon punto Ok ok perfetto Perfetto È incredibile come ci sta andando veramente a culo In questi giorni Ma veramente tanto Non me l'aspettavo Arc che ti prende? Che è successo? Ah ok ok Ora ce l'ha con noi Perfetto Lillo Perfetto No 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 Questo sale Non puoi salire fino qua Ma non è Ma non è possibile Ma non è possibile Che tu ti sia salito fino qui Ma no ma Ma io non ci credo Cioè ma si è fatto una scalata incredibile Tizio La Un altro dardo Tirato Sta facendo finta di niente lui Ah perché ha visto un cadaverino Vai papà Piccolo papà E se la prende anche con un mammut Ma che fortunelli Cioè guarda il casino che stanno facendo Stanno buttando giù alberi Ma guarda che bei colori Che c'è tipo tutto dorato È maschietto Giusto abbiamo detto maschietto Maschietto 150 No vabbè No vabbè Altro che il 13 laggiù O 15 Quello che cavolo era Perfetto Contro due mammut Ottimo Ottimo Lo terranno Distratto per un po' E cacchialino Si sta facendo buio Vabbè che lui sbrilluccica di notte Quindi dovrebbe essere abbastanza Facile da individuare Però Diciamo che Se riuscissimo a buttarlo giù Con la luce del sole Sarebbe una cosa Tanto tanto buona Ma No stai scherzando I mammut mi hanno fatto fuori Il rex Ma No no Scusate mammut Di che livello siete Un 83 E un 127 Ok va bene Può aver senso No ma non ci credo Ma che sfiga immane Ark Ma Avevo appena detto Ma guarda che forturelli Ma guarda che Ark per una volta Non ci odia E poi ci dimostra Tutto il suo amore In questo modo Almeno ci recupero il metallo Si vero Mammut Ma dai Ma scusate Ma potevate evitare Cioè sapete da quanto Sto girando in cerca Di un rex tech Maledetti Ma non ci credo Ma come ci sono Rimasta male Oh mio dio Si dovevo immaginarlo Che oggi Ark voleva rompere Le scatole Ed aveva perso Lo scarabeo All'inizio Quindi Non siamo partiti Proprio col botto E mo dove lo trovo Un altro rex A niente Mi devo andare a prendere Quello di livello 15 Qui cosa sono No cinghiali contro mammuti Mammuti litigano un po' Con tutti eh Sembrano tanto buoni E pacifici Invece Tra parentesi Io non ritroverò mai più Il mio quesal Perché ormai sto girando Da talmente tanto Che ho perso Totalmente il senso Dell'orientamento Quindi Prepariamoci a doverne Catturare un altro Ve lo dico Qua vedo rex Uh aspetta Aspetta C'è un rex normale E un rex tech Aspetta Aspetta Fammi vedere Che sei di livello 51 51 Dignitoso Mi sembra un livello Dignitoso 51 Quindi Io direi Che Non so se sparargli adesso Non si vede una cippa E' buio Quindi forse Aspettiamo domani mattina E nel frattempo Cerchiamo di non far avvicinare I mammut Che a quanto pare Sono molto bellicosi Che per carità Si vede anche al buio E si fa sentire Decisamente Decisamente Non passa inosservato Potrei anche provare A sparargli due dardi Mi dispiace Che vi devo modificare La luminosità In fase di montaggio Perché altrimenti Non vedete una cippa E mi sembra Che perda un po' di qualità Ogni volta che faccio Sto giochetto Aspetta che forse Forse Mi sa che sto beccando Aquile Se le becco No No forse sto beccando lui E dai dai Che non voglio di darvi Già gliel'abbiamo tirati Va bene Va bene Va bene Guarda come ce l'ha con noi Guarda come ce l'ha con noi Ciao Cici Ciao Cici No ma non puoi salire qua Ma non è possibile Che voi riusciate a scalare tutto E dai Non mi sembra corretto Non mi sembra corretto Ah forse non ce la fa Ah preso 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 Ah Guarda che occhietti Amorevoli Che ha Mio Dio Ci sta guardando Con odio omicida Là In mezzo agli occhi In mezzo agli occhi Dritto in mezzo agli occhi Dai Dai che bloccatino Dai che bloccatino Ci va bene Promette un po' di ansia Ah Non ti Aiuto 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 Che urlo che ci ha tirato Cribbio cacchio Ciao Sì siamo ancora noi Buongiorno Ah finalmente c'è la luce del sole Nostro Cicino nella notte Si è spostato tantissimo E quindi è stato un po' difficile Riuscire a pigliarlo Perché Non è che ci vedessimo bene C'è un altro next deck Aspetta 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 Cribbio che ansia Non me l'aspettavo Ah Ciao No Questo sale Questo sale Questo sale Beta 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 No 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 Aspetta Allora Ce n'è uno Ma io ne ho visto un altro Allora quello là Quello là in fondo È quello che stavamo inseguendo Ok Aspetta allora Tu cosa mi sei Un'altra femmina 150 No vabbè ma non ci credo Un altro 150 Ok Quello era un maschio Era Maschio 51 Ok 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 abbiamo la coppia E se riusciamo a prendere la signorina qui Sono tanto tanto contenta Allora Finiamo di spararidargli A questo livello 50 Lo ando E se riusciamo a prendere la signorina qui Allora A questa Questa è la quarta E se riusciamo a prendere la signorina qui E se riusciamo a prendere la signora qui E se riusciamo a prendere la signora qui